faggio alto buongiorno pedro cosa c'è lì sotto fammi vedere cosa c'è qui sotto guarda che meraviglia ecco ragazzi qua abbiamo il gambo più grande della cappella ah meraviglioso hai visto qualcosa pedro andiamo a vedere cosa c'è qui ragazzo mio cosa c'è qui altre due meraviglie gambo più grande della cappella le bolse chiaramente molto faggio alto pedro cosa vi hai visto vieni con me facciamo vedere pedro vieni vieni cosa c'è vediamo vieni pedro vedi anche tu pedro che vedo io mi accendiamo pedro mirtillo 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 vediamo cosa c'è qua gemeni ragazzi mirtillo che colore mirtillo madonna bellissimo eh sì direi che è un bel momento questo luce guardiamo chi ritorna oggi pedro buongiorno salutati ai paesi buongiorno pedro oggi è portato fortuna vedete anche voi come è più grosso? come è più grosso di te come è successo bene cosa c'è allora vediamo un po cosa c'è un patatù madonna wow che roba ragazzo enorme un gigante vediamo un po ecco questo ci siamo bellissimo bosco faggio bosco bellissimo vedete qualcosa vedete bravissimi l'avete visto complimenti bravi andiamo a vedere che c'è ancora a casa bellissimo oh madonna mia siamo al top di un maschio da imbalsamare pancilla wow ragazzi qua benissimo vedete wow vedete e vediamo iniziando questo ciccione wow! bellissimo ragazzi, vediamo un po' questo buongiorno attento al porcino ho preso attento un pochino vedete anche voi? vediamo un po' oh mamma mia bellissima ragazzi wow fantastico vediamolo qua vediamo che fai vediamo vediamo qualche cosa c'è pedro i porcini da campioni sono questi pedro ho preso qualcosa andiamo a vedere cosa c'è wow ragazzi che colore guarda qui colore wow via bene via via Ehm, ehm, vado, vado. Sì, vado, vado, vado. vediamo un po' cosa c'è qua uuuuuh quel bel pomolo bellissimo uuuuuh cosa c'è? vediamo un po' avete visto? bravissimi vediamo che oggetto è c'era molto in alto quindi in alto c'è la roba grossa bella uuuuh un bombolone e poi ci spostiamo ancora qua vediamo un po' uuuuh anche questo guarda dov'è? un bombolone è lunghissimo mamma mia no uuuuh un giraffone qui c'è un porcino che è nato in un posto da quadro lo vedete? lo vedete? ci avviciniamo guardate dove è nato sempre un bosco faggio il 25 guardate che spettacolo guardate che spettacolo wow guarda guarda che spettacolo guarda guarda che spettacolo guarda madonna wow che meraviglia uuuuh una buon altra guarda ma una buon altra bello questo, un po' questo, bello, ragazzi che da forma bellissima, perfetto, un altro bel morettino, guarda, direi che ci siamo, direi proprio di sé, top, 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 quadrati non arrivi vita, guarda. ragazzo mio si fa quel video ragazzi altro bel momento allora prendiamo un po' qua prendiamo uno due tre quattro un po' un po'